Lenti fumatori buongiorno visto che questo gennaio 2022 mi vuole sepolto per quarantene varie in casa e quindi ho molto più tempo per stare qui nella mia stanza e tra le mie pipe anche ne approfitto per fare qualche ripresa come tradizione vuole in 4k e farvi vedere le attuali pipe mie di questo gennaio e 2022 trovate sul canale un altro video che si chiama le mie pipe in 4k edizione 2019 quindi vedrete che ce ne sono tantissime diverse pochissime di quelle di quelle pipe che vedevate nel video vecchio vedrete anche questa volta a testimonianza che ci si rinnova sempre che i gusti cambiano che le pipe che utilizziamo sono sempre diverse e che la nostra scelta, i nostri gusti si affinano e migliorano sempre procederei col farvi vedere le pipe dopo la sigla ovviamente voi intanto iscrivetevi e mettete mi piace ciao a dopo la vetrinetta che vedete è sempre la stessa non c'è più la copertura in vetro perché trovo che arieggi di più e le pipe che vedrete invece sono molto molto diverse da quelle nell'edizione precedente scegliete voi la risoluzione migliore per questo video sappiate che è disponibile anche in 4k ma potete selezionarne anche uno step indietro ecco per vederle meglio partirei con questa Cimni di Tsuje pipa presa l'anno scorso e poi andrei abbastanza velocemente perché le pipe sono tante questa è la morta Rhodesian di Mimmo Provenzano bocchino in Camberland questa è un'altra morta del Duca pipe sempre bocchino in Camberland pipa dal design fantastico secondo me ditemi voi poi passiamo a un'altra Rhodesian ma in radica questa è una Danil gruppo 4 pipa strepitosa alla quale sono affezionatissimo questa è la prima Danil che presi circa un paio di anni fa o tre questa è la Danil mia coscritta 1979 che ho recuperato io restaurato altra pipa con cui faccio delle fumate fantastiche e che mi alla quale mi sono molto affezionato sempre una Danil quindi inglese shape classicissimo inglese questa è una bulldog alla quale ho aggiunto recentemente un'altra bulldog sempre di scuola inglese col bocchino però a sella e questa è una Parker sempre made in England passiamo invece a un artigiano italiano angelo del prete il cerchio pipe questa è una dei primi modelli che faceva ancora a nome non il cerchio pipe fantastica pipa in stile danese diciamo uno shape abbastanza libero questa è un'altra Parker billiard sempre inglese questa è una gruppo 4 anche quella o 5 questa qui è una pipa di Giacomo Penzo italianissimo una pickaxe o skater presa anche questa recentemente ora vedrete che le uniche pipe che ho di Penzo hanno tutte e tre la punta sapete che io ho un debole per le pipe con la punta e soprattutto per le pipe di Giacomo Penzo con la punta questa qui è un altro esempio è una panel panel axe io la chiamo perché ha la punta poi ve le faccio vedere tutte e tre insieme e questa qui invece è la prima pipa sempre di Giacomo Penzo che presi una semicurva ma si può dire anche dritta sempre una free hand con la punta ve le faccio vedere tutte insieme perché secondo me meritano pipe a cui sono affezionatissimo torniamo sulla rastrelliera nel secondo piano abbiamo qui una Peterson un'altra Peterson che questa qui c'era anche nel video vecchio ed è una delle mie primissime pipe che presi direttamente a Dublino anche questa qui è una pipa infallibile un'altra Peterson serie Dublin Castle molto bella una Sherry Wood sabbiata Danimarca e Stanwell una pipa in cui fumo principalmente tabacchi aromatizzati in stile candle quindi molto saponati Annerdale Cannon Plug questa pipa è un esperimento ve la faccio vedere così al volo senza marca questa è la Chacom anche questa qui abbastanza anziana ce l'ho da parecchi anni 4 anni probabilmente 4-5 anni e ora passiamo alle pipe del gruppo lenti fumatori del tubo partendo dalla prima del 2018 se non sbaglio questa realizzata da Salvatore Amorelli con il nostro marchio del gruppo che trovate su telegram come chat libera alla quale potete iscrivervi trovate i link sotto per rimanere aggiornati sui le nostre pipe del gruppo questa era l'anno 2019 una scorti con bocchino in camberland una apple rusticata di ascorti anno 2020 Simone Gilli una billiard sempre bocchino in camberland con il nostro simbolo e marchio sotto del gruppo questa qui era una mini lb una magre diciamo qui non vi ho fatto vedere le punzonature sopra c'è l'acronimo LFDT e sotto c'è il nostro lupo e poi c'è quella di quest'anno realizzata da il cerchio pipe una dublin canted con il fornello leggermente piegato in avanti sempre marchiata LFDT una pencil leggerissima sabbiata con verniciatura contrasto altra pipa di cui andiamo molto molto fieri passiamo all'altro ripiano e qui abbiamo le caminetto d'epoca che vi feci vedere in un video ormai un paio di mesi fa questa è sempre una dublin con una rusticatura molto incisiva anche qui il fornello leggermente piegato in avanti questa è sempre una caminetto ancora dell'epoca primissima caminetto business marchiata a scorti radice cucciago quindi quando ancora i marchi a scorti e radice collaboravano sotto il nome di caminetto questa anche questa potrebbe essere una vulcano diciamo sempre con una rusticatura molto molto caratteristica questa è una caminetto second pipa che come vi ho già detto sto fumando tantissimo tutte le pipe che vedrete oggi nella prima parte del video sono le pipe che fumo se non spessissimo comunque spesso questa è una fantastica pot sempre caminetto fornello basso e largo ci sto fumando un po' di tutto ma prevalentemente misceli inglesi a distanza di tempo devo dire che non ho neanche più pipe dedicate come vi dissi nel primo video in cui ve le mostravo tutte questa qui è l'ultima acquisizione una radice silk cut quindi sabbiata e con bocchino in camberland è una bellissima sabbiatura pipa piccola pipa piccola comoda mi ci sto trovando davvero davvero bene poi di fianco c'è un'altra radice questa volta rinde quindi rusticata questa ho da moltissimo tempo una delle prime pipe c'era anche nel video vecchio andate a vedervelo per curiosità perché si vede veramente le differenze di gusti la mia evoluzione poi questo qui è il ripiano un po' delle pipe di scuola canturina questa è un'altra a scorti business che anche questa qui ho da tantissimo tempo questa è la mitica sempre a scorti che ho anche sulla foto profilo vediamo se riesco a mettervela a fuoco bene problema del 4k quindi altissima risoluzione che necessita anche una bella luminosità pipa dal fornello molto alto poi abbiamo sempre quest'altra a scorti questa volta cool che è una calabash reverse quindi con camera di espansione all'interno del cannello più largo altra a scorti anche questa è una pipa secondo me dal design eccellente a cui sono affezionatissimo fumate corte fumate brevi non la fumo tantissimo devo dire ma come estetica mi piace tantissimo rimaniamo sempre nel canturino con castello questa è la famosa castello che appariva in uno dei primissimi miei video addirittura risale al prima del 1947 ma trovate un video dedicato e anche articoli su alcuni forum ha una punzonatura totalmente diversa dalle altre io la portai proprio da franco coppo che mi rifece il bocchino e contribuì a farmi un'autenticazione innanzitutto e a spiegarmi un po' la storia di quella pipa altra castello rusticata classicissima una old searoc una billiard super classica anche questa qui negli ultimi due anni ha fumato veramente tanto e con grandi soddisfazioni questa invece delle tre castello che ho è quella che uso di meno ma anche questa è una pipa eccellente vai a capire perché ora che la vedo sicuramente mi viene più voglia di fumarla sempre una billiard ma con il con il cannello leggermente tagliato ecco poi lì sopra ho un po' di tabacchi qui cosa vedo c'è un'altra pipa nell'angolo che appariva anche nel primo video anche questa qui è una delle mie primissime pipe una curva decisa un ungherese un 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 una on pole qui un po' di tabacchi che ho da aprire ancora da un bel po' là dietro daniel naikap solani balcan di sassieni davanti un po' di small batch di cornell and deal poi là dietro cosa c'è un old dublin di peterson e un aromatizzato insomma un po' di cose ora salgo sulla mensola e vi faccio vedere l'ultimo ripiano savinelli ontario una canadese anche questa c'era anche nel video vecchio perché ogni tanto la fumo questa è una punto oro sempre una canadese ma leggermente curva sempre savinelli altra punto oro pipa curva comodissima che anche questa qui mi sta dando molte soddisfazioni questa è una savinelli che probabilmente non vi ho ancora mostrato in nessun video è una savinelli non pareil dei primissimi modelli ancora con questo inserto in corno infatti è un po' rovinato è la 9904 come shape anche questa l'ho risistemata io sempre savinelli 320 classico shape di savinelli che è diventato iconico una author direi come shape questa pipa a cui sono affezionatissimo c'era anche nel primo video sempre una savinelli 915 se non sbaglio anche questa ogni tanto nonostante gli anni che sono passati la fumo sempre con piacere questa è una savinelli liscia 606 ancora in tonsa che non ho ancora avuto il piacere di fumare molto bella anche questa shape classicissimo qui abbiamo altre due savinelli una billiard sempre con bocchino a sella non mi ricordo il numero vabbè ma tanto ve l'ho già fatta vedere milioni di volte anche questa molto bella pipa versatilissima che fumo sempre almeno una volta al mese è la 8001 quindi savinelli a quattro cifre bella vecchiotta anche questa questa qui è una talamona sempre reverse calabash questa qui è una brebbia straight grain se non sbaglio si con una bella fiammatura anche questa qui è una pipa che ogni tanto fumo piacevolmente questa qui è la brebbia del settantesimo anniversario pipa alla quale sono legato perché mi ricordo quando partecipai a questo evento ormai 4-5 anni fa non ricordo vabbè e qui sopra ho un po' di tabacchi anche qui da aprire un po' di casino Stonehenge Flake poi ho l'adagio di Cornel & Diehl che mi regalarono un paio di McClelland che non ho il coraggio di aprire Siga Rivari questo qui è il Pure Virginia HH che prima o poi recensiremo questa qui è una latta di capstan che sto facendo invecchiare da 5-6 anni Squadron Leader qualche McConnel lo Scottish Cake l'Oriental il 965 il Gold Rush che è un Virginia di Ashton l'Artisan Blend sempre di Ashton questa qui è una Balkan BBB Balkan Mixture presa sempre in Svizzera questo qui è un aromatizzato raro che ho lì da un bel po' e questo qui è il Clan Tre Anni che prima o poi troverò il coraggio di aprire anche questo quindi il portapipe l'abbiamo visto ora vi faccio vedere anche altri tre portapipe che ho da un'altra parte questa qui è la brebbia Calabash 1997 versione giubileo 1997 pippa fantastica questa qui è una Ascorti linea AAA che è diciamo la linea più alta la linea massima di Ascorti il problema del 4K è che si vede anche la polvere ecco questa qui è una V Prati due o tre asterischi altra pipa davvero ben realizzata che fumo un po' poco questa è una Gasparini Cimni che ho anche questa qui da tanto tempo e che non fumo mai ma campeggia qui tra le tra le pipe lisce più belle che ho questa è una Pascucci Rhodesian shape non perfetto ma pipa che fuma ottimamente questa è una Horn diciamo di Brebbia anche questa qui me la regalarono a un mio compleanno un po' di anni fa ora veniamo le Peterson questa è l'unica Peterson Church Warden che ho è la D15 questa è la Shape 69 altra pipa che ho fumato moltissimo questa qui è la XL90 che uso con miscele inglesi scusate questa è la System Standard 305 mi sembra questa qui è una Sherlock Holmes la Handsome sempre il Peterson quelle che vedete ora sono tutte Peterson questa è un'altra Sherlock Holmes la Squire sempre una Rhodesian robusta ma leggera in stile proprio Peterson molto bella anche questa questa è la 999 Sterling Silver sempre Peterson altra pipa eccellente questa qui è un'altra System Standard una pot curva che ho recentemente preso poi magari ve la farò vedere meglio in un video perché ha delle caratteristiche di cui voglio sicuramente parlarvi in relazione un po' anche alla storia di questo shape che è la 303 se non sbaglio questa è sempre la 99 ma versione John Ball che era la pipa dell'anno 2019 o 2020 differisce dall'altra che avete visto prima perché è un po' più robusto il cannello e qui abbiamo io le chiamo le nere perché sono nere ovviamente mi piace vederle tutte insieme quasi tutte sabbiate e quasi tutte e tutte nere quella lì era fiamma di re questa qui è una Charatan 350 DC che sta per double comfort cioè bocchino con doppia sella questa qui è la Rinaldo Sahara una canadese ma pot perché ha il fornello più corto più basso altra pipa che vi ho elogiato negli ultimi anni questa è la Stanwell Brass Band su disegno su ispirazione di Tom Heltang anche questa qui ormai ha i suoi anni è sempre con me e ogni tanto fuma sempre e questa qui è la sempre Simone Gilli una Bent Panel pipa che mi piace tantissimo che presi nuova 2-3 anni fa questo è uno shape davvero interessante perché realizzato benissimo curva di cannello e bocchino direi perfetta e un po' l'austerità delle panel questa è una cassettiera che vi faccio vedere dove ho dentro altre pipe che non fumo spessissimo ma che vi faccio vedere così in volata anche questa qui è una Savinelli Trevi una delle primissime tip pipe che vedevate anche nel video vecchio queste sono due Savinelli Club con vera in argento quella lì era una Dublin questa qui è una Prince queste qui ogni tanto le fumo sono qua nel cassetto per motivi di spazio ma questa è una Savinelli artisan con una fantastica sabbiatura anche questa qui ogni tanto la sera è in poltrona la fumo piacevolmente questa è sempre una Savinelli dry system quello lì era il cassetto delle Savinelli questo qui è il cassetto materiali alternativi ci sono tre schiume di mare vi faccio vedere soltanto la prima quella l'unica senza custodia e questa qui è una pipa in ceramica di cui vi parlerò vi darò anche dei cenni storici perché è un artigiano francese che ha una bella storia di cui vi parlerò questo qui è il cassetto dove ci sono le brebbia queste qui sono diciamo cassetto pipe piccole sono tutte diciamo di gruppo 2 3 1 sono tutte pipe abbastanza piccoline le faccio vedere veloce perché se no stiamo qui i secoli questa qui è una pipa in ciliegio se lo sbaglio questa è una Simil Peterson ma è una Ericsson ecco questa magari merita che mi soffermo un po' di più perché è una pipa algerina una a miel molto bella come shape come sabbiatura poi cosa abbiamo qui vabbè cose varie scovolini porta tabacchi qui abbiamo le buste porta sigari qui abbiamo sempre vabbè cassetto con multimarche questa qui è la scorti che realizzò Roberto durante il video sulla fabbrica scorti questa qui è la pipa Milville sempre inglese comodissima questa cassettiera per organizzare gli spazi non mi ha salvato la vita perché ne ho altre comunque alcune altre pipe nelle scatole questa qui è la Ardor con Ninfea in argento chiamano così questo innesto a Spigot Army Mounted bellissima anche questa è qui sepolta ma la fumo una volta al mese la fumo questa è un'altra talamona insomma stavo dicendo che questa nuova cassettiera è stata un buon organizzatore di spazi questa qui è una Charatan bel vedere che fumo pochissimo prima o poi magari mi deciderò a vendere qualche cosa e qui abbiamo pipacce un po' di ogni genere tipo sperimentazioni varie questa qui è forse la mia primissima pipa niente di degno di nota qualche testa qua e là molto bella questa testa credo di non avere più il bocchino forse sì non mi ricordo vabbè questa era un po' la mia situazione attuale qui altre scatole con scovolini cose questi sono altri due tabacchi che devo aprire del Seattle Pipe Club insomma questa era la situazione un po' aggiornata al 2022 poi ogni 2-3 anni ogni tot tempo visto che vi piacciono questo genere di video faremo degli aggiornamenti per vedere un po' interessante anche per me capire come sono cambiati i gusti quale pipe fumo ancora quali invece non fumo più quale ho relegato nei cassetti quale invece sono sempre lì a portata di mano fatemi sapere cosa ne pensate e scrivetemi nei commenti ciò che volete e ci vediamo al prossimo video ciao da Moreno ciao